Non lo dobbiamo poter tirare nelle zone pedonali, si spacca le carrozine, non si fa nessuno, si spaziamo e andiamo all'ospedale, per Piazza Duomo è inutile che il sindaco dica che si può entrare e poi ti blocca, è dalla Piazza Duomo che hanno chiudo, non si circola più da nessuna parte, 80 metri per noi vuol dire tirar fuori la lingua per chi ci li ha Per chi non cade prima si rompe la testa